Prima l'incontro con la maestra Milva Altieri per visitare i presepi e subito dopo la partecipazione alla messa di Coldiretti nella chiesa di Santa Maria Goretti di Gromola, ufficiata dal vescovo Monsignor Ciro Miniero, il sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri nel weekend, oltre a fare il punto sul coronavirus nel comune di Capaccio Pestum, ha imparato come si lavora a un presepe e parlato di agricoltura come pilastro dell'economia cilentana nell'intervento in chiesa. L'agricoltura è uno dei pilastri dell'economia cilentana e con i suoi prodotti costituisce una delle eccellenze del nostro territorio, ha detto, e tanto dobbiamo anche alla preziosa forza lavoro di uomini e donne extracomunitari troppo spesso strumentalizzati dalla becera propaganda di certe forze politiche a quegli uomini e a quelle donne. Va un pensiero speciale. Mentre sugli aggiornamenti covid nel comune ha dichiarato abbiamo un nuovo positivo in città, due nuovi guariti per un totale di 37 positivi. Continuiamo a rispettare rigorosamente le norme anti-covid, obbligo di mascherina, distanziamento sociale, sanificazione delle mani.